Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Ancora una sparatoria, ancora ragazzini protagonisti che mandano una quattordicenne all'ospedale per futili motivi. Serata calda, quella sul fronte baby criminalità ieri sera a Napoli. A Via Foria, sparatoria a seguito di un tentativo di rapina ai danni di una turista messo a segno da un gruppo di minorenni. I malviventi avrebbero esploso poi alcuni colpi di pistola all'arrivo degli agenti della polizia di Stato e dei falchi intervenuti prontamente sul posto. Una zona, quella tra Foria e Via Duomo, già teatro pochi giorni fa di un'altra sparatoria all'altezza di un autolavaggio nei pressi dell'orto botanico. Sempre ieri sera una ragazzina di 14 anni è stata aggredita da alcuni coetane in via calata Capodichino. Ancora non chiare le dinamiche e le motivazioni che hanno portato al pestaggio della vittima, ma da una primissima ricostruzione ad essere coinvolte potrebbero essere altre ragazzine, sempre minorenni, che avrebbero risolto con la violenza alcuni screzzi nati sui social. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. La ragazzina è stata portata al pronto soccorso del CTO, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico con prognosi di 14 giorni. Ancora arresti per il clan camorristico dei Mallardo, attivo nella città di Giuliano e parte del potente cartello denominato Alleanza di Secondigliano, dopo i 25 arresti eseguiti ieri. Nelle prime ore di questa mattina, infatti, i carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, a carico di 9 persone raggiunte a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza per i reati di estorsione, consumato tentata, detenzione e porto illegale di armi comuni di sparo, aggravati dalle finalità e modalità mafiose. Le indagini hanno permesso di far luce sulla presenza di un'articolazione del clan Mallardo, operativa specificatamente sulla fascia costiera della cittadina, dedita principalmente all'estorsione ai danni di imprenditori edili, concessionari di auto, ristoratori, nonché all'imposizione del conferimento degli oli esausti ai commercianti della zona e all'attività di riscossione e recupero dei crediti. Sono 15 gli episodi contestati e tra gli arrestati figura anche Michele Di Nardo, considerato esponente di rilievo del clan e di recente scarcerato. Durante le indagini è emersa la volontà di alcuni degli indagati di porre in essere azioni intimidatorie nei confronti dei carabinieri impegnati nell'attività di investigazione. L'analisi dell'impatto dell'aumento della digitalizzazione amplificato dalla situazione di emergenza Covid sull'economia italiana, che deve tenere conto della specializzazione produttiva, della prevalenza delle microimprese e delle forti disuguaglianze territoriali, sociali e infrastrutturali tra le regioni italiane. Se ne è parlato nel corso del convegno, la digitalizzazione delle imprese del mezzogiorno che si è tenuto alla Camera di Commercio di Napoli, organizzato da Sì Imprese insieme con Istat. Oltre al divario storico tra nord e sud c'è anche una marcata disparità tra le città e le aree rurali, caratterizzate dallo spopolamento e da una parcellizzazione delle attività produttive. L'obiettivo del convegno è quello di verificare l'utilizzo dei servizi digitali da parte delle imprese nei territori meridionali, come spiega Fabrizio Luongo, vicepresidente vicario della Camera di Commercio. La Camera di Commercio con la presidenza Fiola ha investito in questi anni molto proprio nella digitalizzazione e continuerà a investire con nuovi bandi anche quest'anno. Le imprese risultano anche chiudere un trend inattivo nonostante la crisi, pandemiche e anche quella della guerra. Occorre anche una certezza della fonte dei dati statistici. Oggi il confronto con l'Istat nazionale metterà il punto anche su questa azione. Intervenuti all'evento Antonella Bianchino, dirigente dell'ufficio territoriale ARA Sud di Istat, Fabio Rapiti, direttore centrale per le statistiche economiche di Istat e Felice Casucci, assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo della regione Campania. Noi oggi presentiamo i dati di due indagini, il censimento delle imprese che ci fornisce informazioni del 2018, quindi pre-Covid, e i dati di tre edizioni di indagine svolte durante proprio la pandemia, per valutare l'impatto che il Covid ha avuto sulle imprese. La Campania, come il resto del mezzogiorno, si colloca in un gradino inferiore rispetto al resto d'Italia. Ciò però non toglie che le nostre imprese, le imprese campane, hanno reagito molto bene alla pandemia, cercando di ottenere, di investire nelle tecnologie. L'aumento della digitalizzazione in primo luogo rafforza la produttività delle imprese, che è il problema dell'Italia, che è un problema italiano e non solo del mezzogiorno. Non c'è una correlazione con la riduzione della forza lavoro, c'è invece un altro aspetto importante, che l'adozione delle tecnologie va fatta con personale qualificato. La digitalizzazione è uno dei temi preferiti dalle imprese. Evidentemente noi ci muoviamo in una logica di realtà che deve essere quantitativamente determinata, ma deve essere soprattutto tecnologicamente molto avanzata. Questa è una sfida per noi, ma è una sfida per tutto il mercato internazionale, soprattutto nelle condizioni post-pandemiche. Si torna a vivere, proprio come la canzone di Vasco. Napoli ieri si è data appuntamento al Maradona, dopo sette anni, per accogliere il rock remiliano e tiene fede a quella promessa fatta sui balconi a inizio pandemia, lontani oggi per abbarciarci più forte domani. E così è stato. Vasco accende il cuore dei 45.000 supporter che per tre ore di fila hanno cantato a squarciagola le sue canzoni. Quasi una liberazione, un canto partito dal cuore che riscalda l'anima e che conferma quello che il cantautore aveva scritto su Facebook nemmeno 24 ore prima. Quando i napoletani cominciano a cantare, praticamente tutti puoi fermare, perché cantano da Dio. Una lunga carrellata di successi, da Alba Chiara a Rewind, da Senza Parole, a Vivere. Dal palcoscenico che fu di Maradona, Vasco ha espresso parole di apprezzamento per Napoli e i napoletani durante il concerto, stigmatizzando invece la crisi in Ucraina. E come nelle favole, il concerto di Vasco è stato anche il palcoscenico di una proposta di matrimonio. Antonio Peluso, titolare di un ristorante di Marcianise, si è inginocchiato mentre il Blasco cantava canzone e ha chiesto la mano della sua Manuela. Lacrime e abbracci e quel fatidico sì, miracoli che solo le note del Blasco possono realizzare. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.